6 piani da fare a piedi, con il respiro che diventa affanno man mano che si sale. Una condanna, soprattutto perché ha il cuore segnato da due interventi chirurgici. E poi ancora più su, sino all'ottavo ed ultimo pianarrottolo di una palazzina dove risiedono tanti anziani affetti da patologie gravi e invalidanti e anche alcuni disabili. Siamo alle case Magno, Rione San Pio, alle mie spalle una delle palazzine, otto piani e da circa dieci giorni senza ascensore. E per chi ha problemi di salute e per chi è cardiopatico rimanere in queste condizioni è veramente difficile. E l'ennesima volta in appena due anni, come già denunciato da Telerama, che da questo palazzo di Via Vergine viene lanciato un grido d'aiuto, un disperato appello affinché qualcuno intervenga. E questa è la terza volta. L'anno scorso siamo stati 25 giorni sequestrati a casa con l'ascensore. Due anni fa lo stesso. Questa è una canzone che continua sempre. Non se ne fregano niente. Basta che mandano i soldi con un papà. Con un paglio e basta. Niente più. Alle cristiani. Sono stato operato 20 giorni due volte. Ho 83. Fra due mesi li compio. Entro lì 84. E non lo so. In persona. In regola con i pagamenti. Sa mettere a fare l'emosina a questi signori. Le telefonate all'amministratore condominiale, al centralino della ditta che si occupa della manutenzione, ad Arca Sud, proprietaria dell'immobile, si susseguono quotidianamente, ma senza risposta. Telefoni all'amministratore e ti dice, la segretaria, gli uffici sono chiusi dal 7 al 25 di agosto. E io quando scendo? Quando c'è stato l'ascensore? O se ci sono delle persone disabili, quando scendo? A Natale? E non c'ho capito. Nel frattempo i giorni passano, ma le difficoltà continuano a rimanere. E c'è chi si affida al buon cuore di chi è più giovane. Per salire le buste della spesa può svolgere qualche commissione. E c'è anche chi, salendo per le scale dove ad ogni piano è affissa al muro un'immagine sacra, si fa il segno della croce, forse sperando in un miracolo. Ma qui nulla cambia. E Amen. Grazie a tutti.